Attenzione alle politiche sociali da parte della provincia di Napoli dopo il rimpasto di giunta definito dal presidente Luigi Cesaro. L'ente di Palazzo Matteotti ha deciso di concentrare i suoi sforzi sulle politiche sociali e quanto affermato dall'assessore alla solidarietà Filippo Monaco intervenuto nella sala Cirillo di Palazzo Matteotti al convegno l'evoluzione della legge 11 2007 in materia di dignità e cittadinanza sociale. Formiamo tutti i responsabili degli enti e degli ambiti con un corso che durerà quasi un anno e questo è un modo per iniziare e cominciarci a conoscere. Ovviamente formare chi è a contatto col territorio in questo terzo millennio dove il povero, non parliamo solo di poveri riferendosi solamente e soltanto agli esodati, ma è povero anche colui che oggi non riesce ad inserirsi nel sistema sociale, è povero colui che non riesce ad avere non solo un reddito, è povero colui che purtroppo subisce delle disavventure dal punto di vista non solo economico ma anche dal punto di vista della salute.